Cari amici, una notizia che mi sembra importante. Covid usa per la revoca delle protezioni dei brevetti su vaccini. Leggiamo testualmente. Gli Stati Uniti hanno annunciato di essere a favore della revoca delle protezioni della proprietà intellettuale per i vaccini anti-Covid, per accelerare la produzione delle dosi nel mondo. Si tratta di una crisi sanitaria mondiale e le circostanze straordinarie della pandemia invocano misure straordinarie, ha spiegato la rappresentante statunitense per il commercio, Catherine Tai. Le case farmaceutiche mondiali deluse da scelta USA. Sembra che si vada in questa direzione e sarebbe un danno per le case farmaceutiche, naturalmente che comunque hanno guadagnato moltissimo e continueranno a guadagnare, però è importante questa decisione che potrebbe, sembrerebbe, ostacolare i piani di qualcuno. Non dal punto di vista sanitario, perché si insiste ancora sulla pandemia, quando la pandemia di fatto non c'è, ma comunque vi segnalo questa anticipazione. La fonte, come vedete da soli, è il Mediaset. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al mio canale e a mettere il like che aiuta e facilita la maggiore visibilità dei contenuti proposti. Grazie e alla prossima videopillolina.